due categorie si fronteggiano nel mondo del giardino e sono quelli che amano stare in giardino per lavorarci per togliere i fiori secchi per potare per tagliare il prato perché il giardino deve essere fatto in un certo modo perché a me mi piace a me mi piace a me mi piace e ci sono invece quelli a cui non piace assolutamente e che devono ripetere che non hanno il pollice verde che non capiscono niente di piante anche solo se gli dici guarda che bello quell'albero come se tu gli avessi chiesto una consulenza sullo stato di salute della pianta e mentre ti lascio riflettere su quale categoria si avvicini di più a quella che ti riguarda ti do il benvenuto la benvenuta giardino rivelato il podcast di esplorazione poetica dell'arte dei giardini come penso tutti sanno il giardino è una cosa che richiede lavoro è una cosa che richiede impegno non è un qualcosa che può essere abbandonato sperando che si automantenga ne abbiamo parlato più volte non è solo una questione di non aver fiducia nel fatto che la natura farà il suo corso è che si tratta di un qualcosa di artificiale che io ho messo intorno a casa mia di solito non credo che nessuna persona che abbia un cane che abbia preso un cane che a cui vuole bene oppure no un cane a cui non vuole bene ma l'ha preso per i propri figli ma non credo che questa persona non nutra il proprio cane perché in natura il cane caccerebbe da solo e mangerebbe qualunque cosa gli capiti a tiro fortunatamente le piante non mordono né se hanno fame vengono a reclamare il proprio cibo quindi noi diciamo che tendiamo a dividerci tra sensibili e insensibili quindi c'è questa narrazione per cui le persone che hanno la capacità di apprezzare il giardino e che anzi amano stare nel giardino sono sicuramente più sensibili di quelle che non lo fanno e quindi secondo questa visione il mondo si dividerebbe tra le persone che sono nate fortunate con una inclinazione buona positiva ottimale alla cura del proprio giardino e della natura l'attenzione per queste cose che richiedono impegno invece gli altri sono persone che non hanno sensibilità che si interessano di cose sbagliate che si interessano di cose fondamentalmente sterili quindi le persone a cui non piace il giardino a cui non piace fare determinati lavori in giardino beh poveri loro e poveri noi che ci dobbiamo sorbire la loro esistenza sto un po esagerando con con le considerazioni vero beh comunque non non sono d'accordo con questa visione perché ritengo che in fondo a tutti i nostri comportamenti ci sia fondamentalmente la volontà ma questa volontà non è pura io quello che voglio non lo devo solo a un desiderio che nasce così nel vuoto nasce nella mia storia nasce nella mia esperienza e quindi nelle abitudini se io non sono abituato a determinate cose difficilmente mi verrà se non se non mi è stato insegnato ad apprezzare determinate cose a vedere il lato giocoso e positivo di alcune azioni beh allora come faccio ad amarlo solo perché si deve fare magari lo faccio magari ecco sono una persona che odia fare determinate cose ma siccome ha un profondo senso del dovere le fa lo stesso e quindi vediamo che quella categorizzazione iniziale l'abbiamo già cominciata a rendere più complessa quindi magari ci sarà qualcuno che cura il proprio giardino sì perché gli piace farlo ma perché vuole fare bella figura con i visitatori oppure perché vuole sentire di riuscire a controllare determinate cose forse ho già parlato di questo episodio ma ricordo che nel libro pane prosciutto di Charles Bukowski c'è il protagonista che ha questo padre violento estremamente aggressivo e autoritario che lo obbliga a tagliare tutti i giorni il prato e va a misurare con il righello l'altezza dei fili d'erba chiaramente penso che una persona che subisce un'educazione del genere non avrà un grande amore anche solo per l'idea che esistano i fili d'erba nel mondo e quindi se noi abbiamo un giardino ce ne dobbiamo prendere cura e non sappiamo come fare se abbiamo delle piante dentro casa e non ci va proprio per niente di farlo perché è una cosa che non ci piace ci intimorisce per qualche qualche motivo è una cosa di cui non capiamo è un qualcosa che ci sembra lontano difficile da fare troppo impegno le soluzioni sono due o facciamo queste cose lo stesso oppure lasciamo che muoiano e poi ce ne sbarazziamo e quindi manteniamo questo rapporto di contrasto con la materia vegetale con le piante con l'idea del fare giardinaggio io credo che per risolvere problemi di questo tipo si debba partire da quello che non ci piace quello che non voglio che è una funzione primaria dell'essere umano una delle prime cose che facciamo è sapere quello che ci disgusta perché siamo fatti così perché ci siamo evoluti in questo modo serve a noi per proteggerci se a noi non disgustassero le verdure marce ce le mangeremmo e non sarebbe una buona cosa per il nostro organismo quindi quello che non ci piace è un qualcosa che per assurdo ci può salvare ci può aiutare ci può aiutare ad affrontare tutte quelle cose che sono difficili da fare perché di questo si tratta si tratta di affrontare una difficoltà e questa difficoltà secondo me non va affrontata solo da quelli che non amano fare determinare determinate cose quindi da quelli che non amano curare il proprio giardino vanno affrontate anche da quelli che adorano curare il proprio giardino perché spesso nel nostro desiderio di curare un qualcosa di fare sempre un qualcosa si nasconde anche magari un desiderio di controllo non tutti non tutti ce l'hanno però perché io dovrei perdere l'occasione di andare ad analizzare una cosa del genere perché io dovrei perdere l'occasione di andare a vedere se tutta la cura che metto nel mio giardino nelle mie siepi nelle mie aiuole nel togliere i fiori sia davvero un atto d'amore verso il giardino e non un atto d'amore verso l'ordine l'ordine che deve regnare nel giardino che è mio perché sono io ad averlo fatto e deve avere la forma che voglio io abbiamo due immagini distinte da una parte una persona che si spende incredibilmente per questo luogo e che vuole a tutti i costi che questo luogo assomigli a un desiderio che ha dentro di sé come se fosse una scultura che man mano prende forma dall'altro c'è una persona che ha paura che questo luogo questo giardino questo luogo pieno di vita possa riservare riservare delle brutte sorprese che possono essere economiche possono essere date dagli insetti possono essere date da un impegno che io non voglio che io non voglio effondere in questa azione piace molto a noi quella frase che c'è nel film la grande bellezza in cui jeff gambardella a un certo punto dice che arrivato all'età di 65 anni si è risultato che non può perdere tempo a fare quel che non gli va di fare ed è una cosa sacrosanta è una cosa sacrosanta rendersi conto che il proprio tempo è poco che la propria vita è una e che dobbiamo impiegare le nostre energie per le cose che vale la pena fare però il punto che volevo affrontare è proprio questo non è detto che quello che ci va di fare sia quello che vale la pena fare sempre quante cose ci piacerebbe fare ma non possiamo farle perché sono difficili da fare perché sono troppo lontane per noi e richiedono uno sforzo costante quotidiano quanti di noi hanno difficoltà a mantenere salda la propria volontà nel raggiungimento di un obiettivo perché perché ci sono tante piccole difficoltà che si frappongono tra noi il raggiungimento di quell'obiettivo quindi è difficile per una persona troppo appassionata di ordine e pulizia nel proprio giardino poter lasciare andare questo giardino e farsi sorprendere da quello che può accadere esattamente come è difficile per una persona che ha paura di mettere le mani nel proprio giardino di vedere se questo giardino può riservare delle sorprese è difficile lasciarsi andare nel farsi sorprendere entrambe le persone hanno comportamenti opposti desideri opposti eppure la paura è la stessa la paura della sorpresa la paura di non riuscire a gestire una determinata cosa se io smetto di curarlo un giorno allora dopo domani farà schifo non sarà più quello che io volevo se io ci metto le mani un giorno allora poi significa che magari anche dopo domani ci devo lavorare ma che scherziamo ma no è difficile e c'è una poesia di gianni rodari che si chiama lettere ai bambini che in un pezzettino dice è difficile fare le cose difficili parlare al sordo mostrare la rosa al cieco bambini imparate a fare le cose difficili dare la mano al cieco cantare per il sordo liberare gli schiavi che si credono liberi avere il coraggio di fare le cose difficili quelle che ci vengono difficili fare le cose che abbiamo paura di affrontare è il primo passo verso il sapersi godere la vita veramente ed è un controsenso no sembra un controsenso se io farò quella cosa che non mi piace allora farò quello che mi va è una questione di equilibrio è una questione di fiducia in quello che ci può riservare il futuro è questione di lasciare che il nostro giardino ci sorprenda con un fiore che non ci aspettavamo con un erbaccia che spunta all'improvviso e si armonizza con il resto oppure lasciare che il nostro impegno non tanto poco quotidiano o periodico però quel nostro impegno ci consenta di scoprire delle cose che prima non sapevamo in ogni caso al centro di quel giardino ci sei tu e quel giardino non è un monolite è fatto di piante di animali di terra di aria di sole di vento di suoni è fatto di altre persone che ti possono aiutare al centro di quel giardino ci sei tu ci siamo noi e quel giardino è la nostra vita a questo punto noi ci salutiamo e mi piacerebbe sapere che pensate di questo discorso potete farmelo sapere commentando questo podcast oppure scrivendo alla pagina instagram all'account instagram che si chiama giardino rivelato se vi piace condividetelo condividetelo con persone che magari possono apprezzarlo a loro volta e che magari possono commentare creare un dialogo al riguardo se vi è piaciuto iscrivetevi a questo show come si chiama show si dice show o devo ripetere podcast iscrivetevi in modo che vi arrivi una notifica ogni volta che esce un episodio potete contattare anche direttamente me su telegram chiocciolina francesco trattino basso cecchetti a questo punto ringrazio per l'ascolto per il tempo che mi avete dedicato e immagino si fosse capito che il giardino era solo una scusa